Mi chiamo Guibri Brevi. Dove ero? Un anno fa ero qua che... niente, ero qua... Dove ero? Deci anni fa. Deci anni fa ero in Africa. Dove andavo a scuola e non facevo altro che andare a scuola e niente. I miei genitori ci sono incontrati in Dirkina Faso e ci sono sposati là e sono andato in questo lavoro e sono andato là in questo lavoro. Mio non so poco di loro perché non credo che... ho visto mia nonna e mio nonno non l'ho visto. Lui è morto quando ero piccolissimo. Mio nonno... Mio nonno è lì. Deci anni fa... Vorrei essere il mio paese... Cioè... Cioè... Almeno... Cioè... Per prendere un paio di tempi con mia mamma perché... Non gli do dà un pezzo. Non gli do dà un pezzo. Cioè...